Il gruppo dei 5 Stelle sassaresi lascia il movimento. Stamattina l'annuncio di Maurizio Murru, Laura Roseri, Patrizia Zallo e Federico Sies. I quattro, che avevano rifiutato di lasciare la maggioranza a campus, contestano la composizione delle liste per le prossime regionali con Alessandra Todd. Nelle liste che abbiamo appreso ieri non sono presenti, almeno l'80% dei presenti non fanno parte del Movimento 5 Stelle. Sono liste studiate e elaborate a tavolino dove la base del Movimento 5 Stelle non è stata consultata. I 5 Stelle di Sassari riscontrano una regia nella volontà di espellerli dal Movimento. Era importante allontanare un gruppo consigliare che invece era nato per portare avanti quelli che erano i valori e i principi fondati del Movimento. Chi parla di radicare nel territorio invece ha un unico obiettivo era quello di sradicarlo, azzerarlo e chissà magari lavorare a un nuovo progetto più personale che a riguardo della collettività. I quattro individuano poi un responsabile preciso in quanto accaduto, oltre alla candidata governatrice col campo largo Alessandra Todd, ovvero anche Ettore Liccheri, coordinatore regionale dei Pentastellati. Anni di fallimenti che dal 2020 vanno avanti, dalle subiettive perse a Sassari, dai quattro comuni amministrati persi, dalla fuoriuscita nostra di oggi nell'ultimo comune nel quale il Movimento 5 Stelle rappresentava una maggioranza, nella seconda città della Sardegna. Bene, se questo è il lavoro che doveva fare mi complimento con lui.